ovviamente quando uno comincia a registrare cani che abbaiano, sole che se ne va buongiorno a tutti allora, altro video in realtà questo video l'avevo già fatto nel 2018 riguardante il tecnoparro però l'avevo fatto secondo me un po' superficiale poi comunque è passato tempo hanno fatto dei piccoli aggiornamenti quindi insomma mi sembrava giusto farne un altro un po' più aggiornato un po' più dettagliato soprattutto ecco, quindi video su tecnoparrot ovviamente spiegato in modo semplice e comprensibile a chiunque vi ricordo che il tecnoparrot non è un emulatore ma è un lanciatore quindi ci aiuta nel avviare un determinato gioco perché ci può aiutare per quanto riguarda la configurazione dei controlli ci può aiutare per quanto riguarda qualche settaggio video e nulla di più quindi voi quando vedete un gioco non dovete chiedere ma è tecnoparrot? è sbagliata questa domanda cioè il gioco non è tecnoparrot il gioco è il gioco piuttosto dovete chiedere ma l'hai avviato con tecnoparrot? hai usato tecnoparrot per avviare il gioco? sì, no, capite? cioè il gioco non è di tecnoparrot il gioco è il gioco poi tecnoparrot è un lanciatore che ci aiuta appunto ad avviare il gioco tutto qui quindi qua non si sta parlando in alcun modo di emulazione qua non c'è nulla di emulato già nel video vecchio che feci nel 2018 vi ho fatto vedere che facendo doppio clic sull'eseguibile del gioco partiva comunque senza utilizzare nulla perché comunque stiamo parlando sempre di giochi per pc giochi per computer questi sono tutti giochi sviluppati su piattaforma pc e poi ovviamente rilasciati nelle sale gioco capite? quindi questi sono giochi per pc tecnoparrot ci aiuta solamente nell'avvio del gioco tutto qua dunque io vi ricordo che mi ritrovo su windows 10 a 64 bit come browser web andrò ad utilizzare firefox altra cosa perché comunque questo diciamo questo tecnoparrot è un lancer vi ricordo che è un lancer ve lo ripeto che non è un emulatore e fa parte sempre di una schiera una stirpe di giochi dove dove l'antivirus veramente un po' diventa molto molto prepotente ok? quindi io adesso l'ho disabilitato ok? quindi diciamo che l'ideale sarebbe proprio il top è avere un computer dedicato solo per l'emulazione e basta così dentro non mettete nessun antivirus installate il sistema operativo che meglio credete e siete a posto ok? purtroppo io utilizzo il pc per fare di tutto e quindi l'antivirus a volte può servire può essere utile in questo caso l'ho disabilitato così evitiamo rogne perché se per caso è lanciato un gioco l'antivirus vi intercetta un file ve lo cancella perché magari a volte neanche vi avvisa perché l'avete messo in silenzioso non lo so e vi compromette tutto quanto ok? quindi per sicurezza lo disabilitiamo adesso ci rechiamo sul sito di tecnoparrot altra piccola nota adesso io avendo disabilitato l'antivirus diciamo non mi dà nessun avviso in teoria se avete l'antivirus attivo qui dovrebbe segnalarvi il sito come malevolo ok? quindi vi dice attenzione tu hai un sito rischioso se vuoi procedere procedi se no torna indietro le solite cose voi lì ti andate avanti e siete a posto dopodiché una volta scaricato e tutto quanto se non volete disabilitare l'antivirus vi dovete creare un'eccezione sul vostro antivirus ok? però le eccezioni io ho notato insomma dalla mia esperienza sì funzionano sì e anche no dipende magari per un periodo funzionano e dopo tutto su un colpo non funziona più allora antivirus disabilitato sito di tecnoparrot.com dunque qui in un page per farvi capire cosa lancia perché è un lancer è un lanciatore questo tecnoparrot non è un emulatore lancia in grado di far lanciare i giochi di queste piattaforme ok? quindi Siga Ring Edge 1,2 Ring Wide Taito X2 X3 ok? Nesica Namco e via dicendo Lindbergh ok? ecco così almeno qui individuate se c'è la vostra piattaforma di vostro diciamo più gradimento dopo cosa abbiamo sezione download non fatevi ingannare perché praticamente siamo qui a una versione vecchia lui ci dice click here to download versione 1.0.0.140 now come fosse la fine del mondo in realtà è una versione vecchia noi scarichiamo una versione vecchia che poi verrà subito aggiornata alla versione più recente ok? qui ci dice anche attenzione vedete malware virus e quindi comunque l'antivirus rompe le balle ok? cosa abbiamo? media vabbè qua è un video ti fa vedere un po' cosa i giochi links collegamenti se vi interessa andare sul canale discord di questo tecnoparrot c'è un canale youtube insomma il patreon che dopo vi accenno cos'è torniamo su download e clicchiamo qui praticamente su click here e scarichiamo si apre un sito di mega scarica sono 91 mega e 6 qui ci metto un po' adesso ve lo taglio ok allora salva file adesso io prendo il mio file e lo vado ad incollare sulla scrivania ovviamente voi non fatelo questo lo faccio io per comodità ma ve l'ho detto mille volte ormai tasto destro estrai file in tecnoparrot così si crea la cartella con all'interno tutti quanti file allora adesso noi lo facciamo partire quindi facciamo tranquillamente doppio click su tecnoparrot ui punto exe qua ci dice sembra che sia la prima volta che stai facendo partire il tecnoparrot e quindi ti dice di fare i settaggi ok perfetto allora ti dice anche sembra che tu non hai nessun gioco vuoi aggiungere un gioco adesso no gli dico di no perché adesso non voglio aggiungerlo ok gli dico di no bene vedete un po' questa interfaccia come la vediamo adesso interfaccia che poi non è che sia tanto diversa però questa vedete è la versione vecchia qui c'è scritto 140 è una vecchia versione però ci fa fare degli aggiornamenti vedete si sono aperte queste finestre e qui dobbiamo fare update su ogni finestra intanto poi vediamo cosa succede con l'aggiornamento quindi do update 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 ok adesso ti chiede se vuoi riavviare il il tecnopard per finire insomma la procedura di installazione di aggiornamento più che altro dico di sì e ancora sembra che non hai cioè ti dice che non hai nessun gioco vuoi aggiungerlo ora no perché non mi interessa aggiungerlo ora perfetto adesso siamo arrivati all'ultima versione almeno ad oggi perché comunque che qui ogni qualvolta voi aprite il tecnoparrot ci saranno sempre aggiornamenti quindi le versioni continueranno ad andare avanti ok allora questa qui è l'ultima versione e dunque tanto cosa da dire nel senso quando ci sarà un aggiornamento non verranno più i pop up delle finestre per aggiornare ok verrà un avviso con scritto aggiornamento disponibile e si troverà in una sezione apposita qui all'interno ok bene allora dunque qua praticamente games è dove troviamo la lista dei nostri giochi disponibili ok quindi giochi che possediamo che possiamo far partire ok qui abbiamo questi tasti sono praticamente tasti specifici per ogni gioco quindi seleziono il gioco e qui vado a fare la configurazione specifica quindi in particolare il game settings ok e il controller setup sono i due principali che ci interessano dopo sulle tre lineette invece qui in alto a sinistra cliccando abbiamo tutto il menu generale diciamo del tecnoparlo ok ecco vedete abbiamo questa scritta qui install updates in verde quindi loro hanno spostato tutti gli aggiornamenti qui dentro adesso noi clicchiamo probabilmente non è neanche ancora l'ultima versione questa qui comunque adesso vediamo vedete loro hanno organizzato su un'unica pagina tutti quanti gli aggiornamenti disponibili possiamo cliccare su open changelog per leggere di cosa si tratta l'aggiornamento ok oppure possiamo tranquillamente fare cliccare su update vedete qui in basso a destra abbiamo update quindi io posso cliccare sono tutti quanti spuntati vedete che erano tutti quanti le v quindi facendo update lui in automatico se li scarica tutti vedete hanno fatto una cosa un po' più comoda prima era tutto un po' confusionario diciamo con tutti quei pop up che si aprivano ok qua ha fatto success fully vedete tutti quanti perfetto chiudiamo chiudo lo riavvio vediamo se ci ha aggiornato ancora la versione non ora la versione è la stessa però ci dice non ci sono update no updates found poi è venuto fuori il messaggio ok quindi 604 in data 57 2021 è l'ultima versione domani probabilmente uscirà una versione più nuova e così quasi ogni giorno praticamente vedete non c'è più non trovo più il tasto per l'aggiornamento perché non c'è nessun aggiornamento da fare ok allora dunque siamo qui cominciamo con a cliccare clicchiamo sulle tre lineette praticamente ok quindi cominciamo col primo library clicchiamo library non è altro che quello che abbiamo noi qui che adesso non ho nulla clicchiamo di nuovo di qua add game bene anche qui hanno sistemato qualcosa dall'ultima versione dalla versione vecchissima che ho fatto io che feci il tutorial un po' fatto un po' così ovviamente hanno aggiunto più giochi perché comunque col tempo aggiungono anche giochi nuovi e poi qui ci dà la possibilità di fare di filtrare la ricerca per genere ok se io so che devo ho scaricato un gioco di macchine voglio aggiungere un gioco di macchine senza andare in cerca qui del titolo che magari faccio fatica non lo so posso cliccare qui su genere racing clicco lui mi fa vedere solo i giochi di macchine ok così andiamo facciamo prima oppure devo caricare un gioco di combattimenti fighting e lui mi fa vedere solo i giochi di combattimento ok però questa insomma è una cosa in più diciamo all me li fa vedere tutti quanti adesso io so già che anzi no no dai facciamo farlo adesso so già che andrò a caricare come gioco acquapazza ok prendo acquapazza perché secondo me è uno dei giochi più semplici da far partire perché non bisogna fare nulla quindi vado in cerca qui di acquapazza eccolo qui lo seleziono acquapazza acqua plus dream match e gli dico add game vedete lui me l'ha aggiunto tra la lista di giochi e appare anche l'icona del gioco e in più cosa che magari la gente non fa ci dà anche qui sotto delle informazioni e ci fa capire qualcosa quindi qua vi conviene leggere anche qui sotto ok qui mi dice che tanto qua è sbagliato vabbè che non c'entra niente emulator open part non c'entra niente perché questo non è un gioco emulato e vabbè però piattaforma ci dice cos'è? ci dice l'anno gpu supportate attenzione qui invidia ok e anche amd quindi se avete se per caso scarri aggiungete un gioco dove vi dice invidia no e se voi avete un invidia probabilmente non vi andrà ok quindi dopo inutile diventate amati per capire perché non vi va il gioco e basta qui non c'è vedete intel vabbè il discorso dell'intel non ci sono informazioni a riguardo al momento però comunque sappiate che invidia amd per questo gioco funziona se ci sono altre cose cose particolari di solito qui sotto va avanti e ci dice guarda che devi installare anche questa cosa per farla andare piuttosto che quest'altra ok quindi dateci una letta questo qua è il minimo indispensabile dopo chiaramente ogni gioco è a sé c'è esiste google esiste web potete fare una ricerca specifica per un singolo gioco e capire come mai quel gioco non riuscite a farlo partire con tecno parrott quello è un altro discorso ok intanto abbiamo aggiunto il gioco alla lista ok in realtà ho solo messo il titolo del gioco cioè ho detto prendi acquapazza e me lo metti lì ma lui non sa dov'è il mio acquapazza cioè io non ho parlato di rom di scaricare giochi ancora quindi ho solamente messo lì il gioco allora torniamo sulle tre linee abbiamo settings qui possiamo fare alcune cose ma vabbè qui sono delle preferenze più che altro ok lo ad last game played on launch ok quindi in automatico lui quando facciamo partire tecno parrott ci caricherà l'ultimo gioco che abbiamo giocato se spuntiamo questa qua c'è il discorso di discord se avete discord aperto e spuntiamo questa qui ci fa vedere che stiamo giocando al tecno parrott insomma check for updates on launch questo va benissimo hide console windows in teoria in caricamento ci aprono delle finestre tipo di prompt probabilmente in parte ce li cancellano non lo so comunque sono sempre cose da testare ragazzi confirmation prompt exit va bene si può stare download game icon when select si va bene lui ci scarica già in automatico l'icona del gioco possiamo disabilitare l'accelerazione hardware qui all'interno della UI quindi in questa in questa situazione diciamo non lo so può essere utile o no magari avete problemi va tutto lento non so provate a disabilitare dark mode questo mi piace lo mettiamo use a different time on holidays ecco durante le vacanze lui in teoria non lo so magari sotto natale ci fa ci metterà un babbo natale che cavolo ne so una roba del genere questo qui enable STO no T O 0 Z zone non so esattamente cosa sia probabilmente qualcosa che riguarda lo sterzo di un volante di un possibile volante ok però è una cosa da testare stessa cosa qui vedete direct input wheel settings è una cosa riferita a un volante e quindi qui possiamo appunto fare il il reverse degli assi ma questa è una cosa un po' più tecnica che magari vi spiegherò un'altra volta se necessario e comunque è una cosa che riguarda un volante questa poi abbiamo download force feedback plugin stessa cosa è un qualcosa che riguarda un possibile volante ok dopodiché possiamo salvare questi settaggi o tornare indietro adesso io gli dico save perché ho messo dark mode perfetto vedete così rimane nero è più bello torniamo sulle tre lineette tecno parrot online ok tecno parrot online praticamente c'è la possibilità con alcuni giochi in questo caso qui vedete mi è apparso questo hanno creato una specie da lobby name penso sia una specie di stanza ok dove c'è questo gioco ci sono due giocatori che stanno giocando online questo qua in particolare è initial d 5 ok perché con alcuni giochi si può giocare online qui comunque abbiamo sempre il filtro vedete tutti oppure ci dice quali giochi ecco fatalità sono tutti initial d il 4 il 6 il 7 l'8 mario kart ecco in teoria questi sono gli unici giochi al momento che possiamo utilizzare giocando online con qualcun altro quindi a distanza teoria a distanza con tecno parro ok però anche questa è una cosa molto più tecnica e sinceramente è una cosa da approfondire a parte adesso vediamo se riesco a tornare indietro clicchiamo sulle tre linette mods qui c'è la possibilità di abilitare delle mods ok quindi si seleziona il gioco adesso in questo caso solo acqua pazza ok e qui possiamo creare delle mod però non l'ho mai fatto quindi è una cosa molto tecnica anche questa e io lascerei perdere tra linette patreon ok qui ci chiede di inserire i dati di registrazione per il patreon che cos'è il patreon praticamente ci sono alcuni giochi ma sono veramente alcuni giochi pochissimi praticamente che tecnoparrot per farli avviare tramite tecnoparrot bisogna utilizzare cioè bisogna praticamente iscriversi iscriversi a patreon quindi devi pagare qualcosa una quota ok in quel caso ti danno questo codice dove ti sbloccano l'avvio del gioco non va con tecnoparrot cambiate lancer andate magari con game loader capite e giocate lo stesso cioè si trova sempre il modo per aggirare il sistema quindi però questo io sicuramente non vedo la necessità di pagare per giocare a un gioco in particolare comunque about informazioni ok e qui si chiude bene allora adesso carichiamo un gioco poi vediamo queste impostazioni lanciamo il gioco e poi direi che va bene così perché comunque non c'è tanto altro da dire questo è il minimo di base indispensabile dunque acquapazza il gioco l'ho scaricato ve lo faccio vedere qui acquapazza acquapazza vedete questa qui è un questo è un esempio anche qui dipende sempre un po' da dove da quale sito andate a scaricare il gioco ok però bene o male ci dovrebbe essere un eseguibile che non è detto che si chiami game per forza può chiamarsi anche in altro modo però c'è un eseguibile con delle cartelle con all'interno dei file ok bene o male i giochi sono strutturati vedete in questo modo ok però vabbè adesso io provo a far partire questo gioco in questa situazione ecco magari qui adesso vedete non c'è nulla c'è solo game se magari ci sono altri file all'interno tipo jconfig file di game loader tutte queste cose potrebbe essere che dia fastidio al techno parrot in quel caso magari vi da errore nel lancio del gioco ok quindi magari prima cancellate quei file in più io l'ho fatto qui ho cancellato tutto quello che riguardava il game loader per sicurezza ok però sono sempre cose da verificare poi in teoria se voi scaricate riuscite a trovare un sito dove vi fa scaricare il gioco proprio questo è un gioco che lo fai partire con techno parrot magari sarà già bello pulito dentro quindi non ha file in più non è detto però in linea di massima questa qua è la situazione file eseguibile con varie cartelle di gioco ok bene torniamo su techno parrot clicchiamo selezioniamo il gioco e beh intanto qui possiamo vedere more info quindi qua c'è delle informazioni sul gioco è ok se clicchiamo su more info lui ci apre una pagina vedete icona quindi logo titolo informazioni sul gioco ci fa una recensione una recensione ci dice che tipo di gioco è le schede grafiche supportate invida md si in te ancora non si sa qua ci dice anche l'eseguibile del gioco è game.exe ok quindi che lo trovi all'interno della cartella ti dice poi non ci sono problemi strani basta ok quindi ci da delle informazioni anche questo ci aiuta ragazzi a capire come mai magari non riusciamo a far partire un gioco perché se non va con la scheda invidia e io invidia è inutile che insisto non va e basta allora non utilizzo tecnoparlot ma utilizzare qualcos'altro come vi ripeto può essere il game loader capite launch game aspettiamo perché prima bisogna dargli percorso del gioco perché lui adesso non sa dove è il gioco quindi game setting bene qui game executable mi leso un po' qui ci va l'eseguibile del gioco praticamente quindi cosa facciamo clicchiamo vedete che appare la lineetta per scrivere tipo basta cliccare qui in automatico si apre praticamente il percorso ci dà la possibilità di navigare diciamo vado dove ho il gioco nel mio caso scrivania acquapazza acquapazza e il game.exe è l'eseguibile perché comunque c'è anche scritto nelle informazioni li do apri vedete lui mi fa il percorso game.exe poi da qui si apre un mondo nel senso che questo gioco con questo gioco posso fare solamente queste cose impostare queste cose o cambiare il tipo di input x o d in base a se sto usando un pad xbox o un pad generico ok e posso scegliere se giocare in finestra o in fullscreen nel senso che così è spuntato finestra ok quindi il gioco si vedrà in finestra se voglio vederla a schermo intero dovrò togliere questa spunta faccio il contrario no di conseguenza ma lo spara a schermo intero basta in questo gioco io non posso configurare altro diciamo a parte i tasti ok però come impostazioni grafica risoluzione dettagli vari fps che ne so non si può far nulla ok c'è solamente questo altri giochi vi danno altre possibilità ok fate le impostazioni save settings importante altrimenti non salva nulla adesso passiamo a controller setup e apriamo adesso questo è importante pad già collegato di input l'ho lasciato impostato così come era prima scusate ve lo faccio arrivare di nuovo c'è no game settings vedete direct input perché questo qui è un di input un pad generico ok quindi per sicurezza teniamo così back controller setup ok quindi ci interessa il test si e anche no comunque il gettone il coin lo mettiamo qui di solito vabbè possiamo mettere anche tutti sul pad mettiamoli sulla tastiera dai gettoni e anche lo start così ok prendere uno start prendere uno up quindi clicco e mando su clicco e giù sinistra destra ok poi abbiamo i pulsanti sono quattro pulsanti quindi non so proviamo a fare A B C C e D ok basta non c'è altro save settings importante qui ci dice che ha salvato altrimenti non funziona e basta adesso dovrebbe andare allora altra cosa qui che abbiamo abbiamo il test menu in questo caso non mi dà la possibilità di abilitarlo ma praticamente è un'opzione che ci permette di entrare in test nel momento in cui avviamo il gioco però insomma è una cosa un po' un po' in più che sinceramente possiamo entrare in test anche dopo quando siamo in gioco poi c'è verify game clicchiamo vedete ci fa una scansione diciamo del gioco e verifica che sia tutto quanto a posto questo non riesce a farlo con tutti i giochi se c'è qualche problema ce lo dice se trova qualche errore ce lo dice insomma comunque il gioco dovrebbe andare in qualsiasi caso vediamo quanto dura questa scansione che sinceramente non l'ho mai fatta anche perché insomma non è che abbia chissà che utilità magari può avere un'utilità per fare un controllo ok quindi voi fate partire il gioco fate partire poi magari si blocca e tornate a windows allora ecco magari dite provo a fare una scansione e vedo se magari c'è qualche errore però sinceramente la cancello che tanto sto qui a aspettare secondo me non ha senso vediamo se si è bloccato tutto probabilmente sì no vediamo ok a posto però quella lì verify game è una cosa che non di solito non utilizzo mai insomma non è capitato perché non serve secondo me download missing icons ecco qui adesso in teoria non è più il caso perché con questi aggiornamenti qui le icone insomma ci sono già tutte dei giochi nel caso qui non ci sia l'icona di un gioco ma che c'è il pappagallo quindi c'è diciamo il logo di Tecno Parrot cliccando qui in teoria dovrebbe scaricare le icone che mancano in più insomma una specie di pacchetto comunque adesso non lo faccio ma vedete un po' voi se fra i vostri giochi vedete che mancano alcune icone qua non appaiono ecco fate così in teoria dovrebbe sistemare un po' il tutto ok adesso facciamo una prova lo faccio partire vediamo se funziona voi sicuramente non lo vedrete a schermo intero io adesso magari mi metto anche la fotocamera qui dietro così vi faccio vedere anche un gameplay una prova in presa diretta così vedete che si veda a schermo intero perché altrimenti la gente non ci crede gioco selezionato launch game vedete è un prompt lui fa le sue cavolate i suoi caricamenti perfetto voi lo vedete piccolo in alto a sinistra io lo vedo a schermo intero adesso qui in basso vedete mi da l'errore la mancata connessione però a me non mi interessa adesso mi è interessato solo far partire un gioco per capire i passaggi da fare di base insomma ok poi ogni gioco ha le sue problematiche dobbiamo premere si i soggettoni vanno start va uso il pad funziona vediamo la rossa vediamo quella blu i capelli vediamo se riusciamo ad andare avanti ok vediamo solo un attimo che funzioni ok i tasti vanno perfetto va tutto ok si vede benissimo schermo intero adesso io impiazzo dietro qui la la fotocamera ok questa è la situazione insomma mi schermo intero e e siamo a posto ok torniamo qui premo esc e praticamente esco dal gioco e torna torna il tecno parrot anzi altra cosa adesso facciamo così vi avvio il mio tecno parrot diciamo quello che utilizzo per alcuni giochi così vi mostro anche le impostazioni che hanno vari giochi ad esempio vedete tipo alien io vado su game setting vedete quante più impostazioni che ho rispetto all'acqua pazza che non c'è quasi nulla qui ad esempio ho anche la possibilità di fare il settaggio della risoluzione ok c'è il free play vedete il custom resolution posso provare a cambiarla se magari non si vede bene o voglio vedere in un certo modo ok poi posso fare tante altre cose come ad esempio clicchiamo su back stesso per gli altri giochi game setting ok qui ad esempio non mi dà la possibilità di cambiare la risoluzione però mi fa fare altre cose back initial d scusato sbagliato game setting ok anche qui ad esempio non ho la possibilità di cambiare la risoluzione però posso fare altre cose quindi dipende sempre dal gioco ci sono giochi dove possiamo fare molto come impostazioni e giochi invece dove non possiamo fare quasi nulla ecco su questo gioco su cos'è questo gioco scusate silent hill ho la possibilità di cambiare la risoluzione però è una cosa da provare anche questa c'è il cambio di risoluzione è una cosa un po' delicata nel senso rischiate di fare peggio nel senso io vi direi lasciate così la risoluzione non toccate quelle cose toccate altre cose magari ma massimo sparate con uno schermo intero ma andare proprio a cambiare la risoluzione io eviterei comunque dopo fate un po' come meglio credete allora e si volevo farvi vedere il discorso dei giochi patreon così vi accendo anche quella cosa lì quindi clicchiamo qui add game esempio guardando in lista ecco esempio questo qui questo gioco qui vedete c'è scritto patreon tra parentesi vuol dire che se io lo aggiungo vedete patreon questo non posso avviarlo perché dovrei essere registrato con la chiave a questo patreon quindi dovrei pagare qualcosa una quota non so quanto sia e non so se c'è una cosa addirittura mensile non penso sia una tantum penso che sia un abbonamento una specie di abbonamento e quindi mi dà la possibilità di giocare a questo gioco però magari questo gioco lo posso far partire senza pagare nulla con un altro launcher e sono a posto e poi qui comunque quando siamo all'interno qui del menu dobbiamo cliccare sul library e torniamo diciamo alla pagina principale del tecnoparrot pagina alla sezione principale del tecnoparrot ok qui lo dico perché a volte magari navigate qui all'interno delle impostazioni e dopo vi perdete dite come faccio a tornare all'inizio che ne so magari siamo siamo qui come faccio a tornare all'inizio vedete che non c'è un tasto back niente bisogna sempre premere sulle tre linette library e torniamo praticamente alla pagina sia ancora la pagina la sezione principale ecco diciamo che questo qui che vi ho detto è il minimo è il minimo indispensabile proprio la base per far partire un gioco dopo vi ripeto dipende dal gioco ci sono giochi dove per farli andare bisogna fare altre cose attorno al gioco altrimenti tecnoparrot non riesce a farlo partire perché vuole che sia fatta una cosa specifica però quelle cose lì dovete poi un po' andare in cerca voi in qualche sito cercare di entrate in qualche forum vedete un po' le problematiche delle persone come hanno risolto ok quindi trovate diciamo che la soluzione bene o male si trova ok video finito non c'è tanto altro da dire ho detto abbastanza quindi se avete dubbi o problemi in certezze scrivetemi nei commenti o se posso vi do una risposta e se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piace ogni video che faccio iscrivetevi al canale attivate la campanella così quando pubblico qualcosa di nuovo vi arriverà la notifica ragazzi con questo è tutto e ci vediamo alla prossima ciao Grazie a tutti